Alleluia Gloria al Signore, il Signore ti benedica Quello è tuo Pace del Signore a tutti, fratelli e sorelle È una gioia essere qui con voi Fratello ringrazia me, ma in realtà sono io che ringrazio i fratelli del Comitato Ringrazio voi di questo bellissimo invito Che mi fa tornare un po' nella mia terra del poggiale Fratelli, passiamo alla parola di Dio Oggi leggerò un passo che probabilmente non è così noto nella storia di Davide E di Saul È scritto nel primo libro di Samuele Al capitolo 16 I versi da 14 a 18 Questo episodio avviene subito dopo L'unzione che il profeta Samuele fece al giovane Davide Indicandolo come il nuovo re al posto di Saul Credo che conosciate la storia di questo re Che per varie ragioni Dovete a un certo punto cedere il passo Il Signore fece un'altra scelta Questa cosa non andò molto a genio al re Saul Tant'è vero che leggo dal verso 14 Lo spirito del Signore Si era ritirato da Saul E uno spirito cattivo Permesso dal Signore Lo turbava I servitori di Saul gli dissero Ecco un cattivo spirito permesso da Dio ti turba Ordini ora il nostro Signore Ai tuoi servi Che stanno davanti a te Di cercare un uomo Che sappia suonare l'arpa Quando il cattivo spirito permesso da Dio Verrà su di te L'arpista si metterà a suonare E tu ti sentirai meglio Saul disse ai suoi servitori Trovatemi un uomo che suoni bene E conducetelo qui Allora uno dei giovani prese a dire Ho visto un figlio di Isai Il Bethlehemita Il padre di Davide Che sa suonare È un uomo forte Valoroso Un guerriero Parla bene È di bel aspetto E il Signore È con lui Fino a qui Fratelli Il soggetto di questo messaggio E comunque il contenuto di quello che abbiamo letto Può essere sorprendente Non è nella norma delle cose che accadono Normalmente nelle cose di Dio Il Signore permette però anche questo Per dare un insegnamento Mi fa piacere che Nelle nostre chiese La musica abbia un ruolo molto importante È il canto insieme alla musica D'altra parte si dice che noi italiani Eramo conosciuti come un popolo Di naviganti Di poeti Di musicisti Oggi dovrei dire di mariuoli E di qualcosa di simile Comunque rimane questa parte artistica Nella nostra indole Ma qui più che nell'indole Dobbiamo fare un passo ancora più addentro Alle cose Perché come vedrete C'è bisogno di Parlare e di suonare E di cantare In modo da non toccare unicamente La parte esteriore Quella che le orecchie possono portare Alla parte del cervello dell'uomo Dell'intelligenza Ma occorre invece scendere un po' di più In profondità E il nostro parlare Il nostro cantare Il tuo suonare Dato che io non sono musicista Possa giungere al cuore della gente Questa è la differenza Questo Saul che era turbato Da uno spirito cattivo Non è stato mandato da Dio Ma è stato permesso da Dio La sua condizione era ormai giunta all'estremo Se mai ci fosse stata una possibilità di recupero Il Signore l'avrebbe utilizzata Beh comunque sia Saul non l'ha accolta E davanti a questo problema Di un re turbato Guardate che già avere un re Che ti tassa come normalmente faceva Era un problema Avere anche un re turbato Era qualcosa ancora di più E forse erano più interessati I suoi sottoposti Che lui stesse bene Che non lui stesso E questa soluzione che viene cercata E su questa che dobbiamo fermarci Un attimo Era quella di trovare un buon musicista E' stato individuato anche lo strumento musicale L'arpa O la lira Non immaginate l'arpa L'arpa che si suona oggi Lo strumento che vediamo in mano Nei dipinti alla giovane Davide Era quello lo strumento indicato Per poter tranquillizzare Il cuore turbato di un uomo Mi voglio fermare un attimo Non voglio fare troppa storia Anche se da lì ci dobbiamo passare Ma dobbiamo sempre venire ai tempi nostri Siamo circondati di gente turbata nello spirito Qualcuno Anche nelle chiese Perdonatemi Anche in alcune chiese Definite evangeliche Credono di poter sistemare le cose Della gente turbata nello spirito Con della musica Ma non è questa la soluzione di Dio Occorre qualcuno che suoni bene Ma non che si fermi lì Come fra un po' questo messaggio metterà in luce Perché noi dobbiamo comunque ricordarci Che il mandato che Gesù ha dato Alla sua chiesa Ai suoi apostoli I suoi discepoli È quello di predicare l'Evangelo E siano benedetti gli inni Che sono composti da autori Sia per la parte musicale Che per la parte delle parole Credenti in Cristo E che possono mettere la parola In quello che noi cantiamo In modo che nel cantare gli uni agli altri Indichiamo qual è la via da seguire E la via si chiama Cristo Gesù Il Signore Non era questo l'interesse di Saul L'interesse di Saul Era che venisse uno che sapesse suonare Trovatemi un uomo Dice il verso 17 Che suoni bene E conducetemelo qui Si tratta di un menestrello di corte Uno che sappia suonare Conducetemelo qui Uno vale l'altro In quella sua misera condizione Ma non è così Per quello che interessa Il popolo del Signore Quello che emerge ora È un fatto che riguarda molti di voi Giovani I giovani sono i più interessati alla musica Quando ero giovane come voi Facevamo chilometri a centinaia Per andare a sentire un incontro musicale E oggi Fate più in fretta di noi chiaramente Un bel aereo lo costo E finite dalla parte del nord Europa E tornate magari in giornata Anzi no perché i concerti sono sempre la sera Quindi tornate la notte del giorno dopo Questo giovane che era presente In mezzo alla gente di Saul Ascoltatemi un attimo La richiesta di trovare un musicista Uno che sappia suonare bene Ma c'è un giovane Che spicca in mezzo agli altri E questo giovane È il giovane Di cui vorrei vedere Piene le nostre chiese Vorrei che noi più maturi Fossimo allo stesso tempo Pieni della guida del Signore Come quel giovane E quel giovane percepì Che c'era una grande opportunità presente Per portare alla corte del re Non un musicista qualsiasi Non un servo di Dio qualsiasi Non un uomo disposto A essere strumento nelle mani di Dio qualsiasi Ma di portare uno che avesse Delle caratteristiche più profonde E questo giovane al coraggio Che vi invito a prendere in voi stessi E prese la parola E disse al suo re Io conosco un giovane Anzi io ho visto un giovane Ho visto un giovane Dice che sa suonare Chissà quanti erano musicisti Con Davide in quel tempo E quanti erano più in vista di Davide Pensate un po' L'uditorio che aveva il giovane Davide Che non ha studiato al conservatorio A Bethlehem vi risulta che ci fosse Un conservatorio di musica Non c'era neanche un luogo dove Manifestare le sue capacità Se non A un pubblico Di pecore Con le pecore Aveva imparato A suonare Mentre le pecore brucavano E facevano quello che devono fare Lui suonava E sono sicuro Che se bevevate il latte Di quelle pecore E ne mangiavate la carne Dei begli arrosticini O delle belle cose Lo scottadito di quelle pecore Era più buono Di qualsiasi altra pecora della zona Solamente Pochi decenni fa Hanno scoperto Che se metti la musica nelle stalle Il latte viene migliore Ma Davide l'aveva già capito E quello era l'uditorio Di Davide Questo giovane Dove aveva visto Davide suonare Avrà frequentato Quei pascoli Avrà visto Davide Appresso alle pecore Che neanche erano sue Erano quelle del padre E quel giovane Ha visto Uno che sa suonare bene E che è disposto Con l'umiltà A suonare Per delle pecore Alla presenza delle pecore Per rinalzare Dio E chissà se già In quella giovane età Non abbia composto Dei salmi Che sono quelli Che ancora oggi Noi leggiamo Meditiamo Ci predichiamo sopra E ci cantiamo Della sacra scrittura E in quel modo Egli imparò Direttamente Dall'autore Dal compositore Per eccellenza Dal creatore Della musica Anzi dal creatore Del suono Dal quale poi viene La musica Dio dell'alto Dei cieli Come onorare Il Signore Qui non vorrò Parlare solo Di musica Ma è il mezzo Oggi per far giungere Questo messaggio Fratelli Ragazzi Giovani E non giovani Se avete a cuore Di seguire Il Signore Prima ancora Di servirlo E se avrete poi In aggiunta In cuore di servirlo Nel campo Della lode a Dio Nell'aiuto Alla chiesa Tramite la musica Che siate disposti A suonare In umiltà Prima di tutto Per il re De re Per il Signore Dei signori Dopodiché Per la sua chiesa Perché possiate essere Fortemente In mezzi Di benedizione Per il Regno dei cieli Costruendo qui Un'eredità Che ritroverete Nei cieli Sapete Un giorno Parlando di queste cose Qualcuno mi fece notare Che in cielo Troveremo la musica Lo sapete che troveremo La musica Non so quali strumenti Musicali Ma In cielo si canta Gli angeli cantano Noi canteremo Anche gli stonati Avranno posto nel cielo Per cantare Ma fate attenzione Non è un guizzo Di pessimismo Ma di realismo In cielo ci sarà la musica Ma non ci saranno Tutti i musicisti Per entrare nel cielo Occorre essere Musicisti credenti Occorre essere Cantori Credenti Occorre essere Figli di Dio A tutto tondo Avendo abbracciato Ogni cosa Che viene dall'alto E avendo il coraggio Di mettere da parte Quello che invece Sorge Da altre parti Ora Lui ha visto Uno che sa suonare Ma questo Davide Non sa soltanto Suonare Sentite qui Ho visto Un uomo forte Valoroso Un guerriero Io mi sono domandato Ma per quale ragione Per andare Alla corte di Saul A suonare Mentre lui aveva i nervi Quando si svegliava Con le patturnie Quando era disturbato Occorreva avere Queste caratteristiche Così di forza Un uomo forte Valoroso Un guerriero Se sfogliate le pagine Della Bibbia Un paio di capitoli Prima Di quello Nel quale Abbiamo letto Questo passo Troverete che Era costume Di Saul Quando individuava Un uomo O un giovane Valoroso Di metterlo Di prenderlo Di metterlo Al suo servizio Aveva riempito Di gente valorosa L'esercito Che operava Per conto suo C'era Una corte Piena Di gente Valorosa Ma vi siete domandati Dove sono finiti Quegli uomini Valorosi Quando si trattava Di affrontare Il gigante Famoso Goliath Che almeno I bambini di scuola Medicale Conoscono meglio Di noi grandi Ormai Dove erano finiti Quegli uomini Valorosi Per 40 giorni Quell'uomo Schernì L'eterno Degli eserciti Schernendo il popolo E alla fine Di quel tempo Giunse Quel musicista Che non solo era tale Ma questo ragazzetto Era anche Forte Valoroso Pieno Della forza Che non verrà Da lui Ma che verrà Dal Signore Colui che gli dava La capacità Di entrare Nelle fauci Dell'orso O del leone Per aprirle Per guastarle Per lacerarle Per tirare fuori Una pecora Qui non è scritto Qui non è scritto Ma è scritto Tra le righe Era Un musicista Che ci teneva Ai suoi ascoltatori Anche se non pagavano Il biglietto Le pecore Guai a chi Metteva le mani Addosso A una Pecora Di suo padre Questa è Scusate una digressione Ma fatemela dire Guai A noi Pastori Se facciamo in modo Che le pecore Che Dio ci ha affidato Siano portate via Da qualcuno Non diciamo Non abbiamo forze Non abbiamo capacità Perché Davide Le ha chieste a Dio Le ha ottenute da Dio E con quelle forze Ha affrontato E ha ucciso Il più famoso gigante Della storia Ecco perché Questa Questa sua capacità È importante C'è dietro la fede Dietro questo modo di essere C'è dietro la capacità Di affidare a Dio Ogni cosa Della propria esistenza Di rischiare La nostra faccia E la nostra vita Mentre Guardiamo Al pericolo Mentre guardiamo La dimensione Del problema E non ne fuggiamo Perché Le cause Del popolo di Dio Sono nelle mani Dell'Eterno Così come ogni battaglia Importante È lui che la combatte Per noi E alla corte di Saul Dovrà Usare Quel coraggio Più volte Come sappiamo Dalla storia biblica Quel giovane Saggio Oltre a aver visto In Davide La capacità di suonare E questo suo coraggio Ha visto Un uomo Che parla Bene Un uomo Che parla Bene Ormai non si usa più Ma se aveste Tra le mani La vecchia versione Diodanti La vera Diodanti La Giovanni Diodanti Quella versione dice Un uomo Avveduto Nel Parlare Un uomo Che sapeva Pesare le parole Io dico uomo Ma stiamo parlando Di un ragazzo Stiamo parlando Di un giovanetto Capace Di parlare Non si riferiva Credo All'eloquenza Alla dialettica Alla capacità Di intrattenere La gente Di stupire Le folle Con il modo Di esprimersi Ma il modo Avveduto Di parlare E' quello Di chi Prima Pensa E poi parla Nel mondo E nel nostro caso Di figli di Dio Prima pensiamo A quello che direbbe Il Signore E prima chiediamo Lui Signore dimmi Quello che vorrò dire Davanti ai momenti Cruciali Della vita Dopodiché Apriamo la bocca E se è il caso Potremmo dire Così dice il Signore E il popolo Ascolterà E il singolo Ascolterà E il tuo amico Ascolterà E il tuo compagno Di scuola Ascolterà La saggezza Che uscirà Dalla tua bocca Perché sarai reso Capace di parlare Nel nome del Signore Avendo chiesto a lui Libertà Di farlo L'Apostolo Paolo Aggiunge del suo Perché Lui seguiva Gesù Come esempio Gesù è uno Che ha lasciato il segno Gesù non ha parlato molto Se fate caso È stato sulla terra Poco più di trent'anni Ma il suo ministero Della parola È durato per tre anni Quei tre anni Hanno lasciato il segno Più profondo Nell'umanità Di ogni tempo E le sue parole Sono Spirito E vita E le sue parole Non tramonteranno mai Gli Apostoli Gli Apostoli diranno Con pietra in testa Tu Signore Hai parole di vita eterna Le parole Devono lasciare un segno Tra i figli di Dio E così arriva L'Apostolo Paolo E scrivendo ai Corinzi La prima lettera Capitolo 2 Dice Fratelli Quando venni da voi Non venni ad annunziarvi La testimonianza di Dio Con eccellenza Di parola O di sapienza Pochi erano così Dotti Come l'Apostolo Paolo Al suo tempo Come il Saulo Che era cresciuto Alla scuola Di uno dei più importanti Maestri dell'epoca Di cultura romana Un uomo Che era di talento In ogni verso Delle cose Della legge Nelle cose di Dio Nelle cose degli uomini Eppure dice Io non ho usato L'eloquenza Che potrei utilizzare Poiché mi proposi Di non sapere altro Fra voi Forché Gesù Cristo E lui crocifisso E la mia parola E la mia predicazione Non consistettero In discorsi Persuasivi Di sapienza umana Ma in dimostrazione Di spirito E di potenza Alleluia Mio padre È stato Evangelizzato Da una persona Che aveva Credo Studiato Fino alla seconda Elementare Lo raccontavo Giovedì scorso Al culto Nella chiesa Di Milano Ricordavo I più giovani Sapete In quale maniera Mio padre È venuto Alla conoscenza Della verità Correva L'anno 1935 Pieno fascismo E piene persecuzioni C'era un suo compagno Che non era musicista Che non era forse Troppo valoroso Ma che parlava bene Sapete perché parlava bene? Perché parlava con Dio Erano compagni di lavoro E quando giungeva l'ora Del pranzo Questo Compagno che era Evangelico Si appartava Un istante E ringraziava Il Signore Per il cibo Uno Si starà domandando Perché racconto Questa storia Mio padre Si incuriosì E un giorno Gli disse Ma perché non preghi A voce alta? E lui rispose Beh Se voi chiudete gli occhi E pregate con me Pregherò a voce alta E così fu E quell'uomo pregò E credo che si dimenticò Del cibo Della pasta asciutta O di altro E pregò il Signore Per quell'uomo E quell'uomo Mio padre Accettò il Signore Per quella umile preghiera Perché quell'uomo Sapeva parlare bene Perché conosceva Il linguaggio di Dio E è stato capace Di parlare al cuore Di coloro che erano pronti A ricevere la parola Vi racconto questo Perché è anche una capacità Un coraggio Di presentarsi davanti agli altri Come credenti di fede evangelica Aiutati magari Ai tanti telefilm Di provenienza statunitense Nei quali si vedono le famiglie Dove prima di mangiare Si prega Viva il Dio Almeno per quella cultura Protestante Che ha portato Questo esempio Nelle nostre case Ma molti di noi Hanno vergogna Di fare questo Non vergognarti Dell'Evangelo Perché la potenza di Dio Per la salvezza Di molti Come ha salvato noi E anche una semplice Possibilità Possibilità di pregare Per gli altri Come testimonianza Che noi per ogni cosa Perché c'erano Perché c'erano otto figli Erano tutti maschi Non solo erano tutti maschi Erano tutti belli Se leggete quando Il buon Samuele Li passò in rassegna Tutti belli Alti di statura Arriviamo Anche a Davide Fra un attimo Erano tutti belli E arriva Samuele Che li deve Un Deve scegliere Tra questi Quello che Dio Ha individuato Come successore Di Saul E vede il primo Il primo genito Alto E subito Crede che sia lui L'erede E Dio gli dice Lo ferma Fratelli e pastori Fermiamoci ogni tanto Che noi Ad ascoltare meglio La voce del Signore E il Signore Che ferma Il profeta Samuele E gli dice Non badare al suo aspetto Né alla sua statura Perché io L'ho scartato Infatti il Signore Non bada Ciò che colpisce Lo sguardo dell'uomo L'uomo Guarda all'apparenza Ma il Signore Guarda Al cuore Al cuore E passarono in rassegna Tutti e sette Gli altri Figli di Isa I fratelli Maggiori Di Davide E il Signore Diceva per ciascuno Di loro Il Signore Non si è scelto Questi Finché giunse Quello che non era Neanche stato invitato Al pranzo E finalmente Il Signore Lei disse Questo È Davide Che dovrai ungere E lì verrà unto Come re di Israele Ed è scritto che Davide Aveva dei begli occhi È scritto anche che era biondo Beh, io da bambino ero biondo Poi sono diventato castano Invecchiando sono diventato Biondo di nuovo Vedete Un po' di sale e pepe Confonde La mia origine Bionda Guardate che in Israele Non ci sono troppi biondi Era uno che spiccava Anche per questo Ma la bellezza di Davide Non era né nell'essere biondo Né nel suo aspetto naturale Qui la parola Si sofferma un po' di più Sugli occhi Si dice che gli occhi Siano lo specchio dell'anima Sapete Quando incontro le persone Credo che questo capiti A molti di voi Ci sono alcuni Che sono interessati Alle mie scarpe Non so perché Hanno sempre gli occhi Puntati lì per terra E dico Si vede che porto Delle belle scarpe Eppure non sono così di marca E allora dico sempre Per favore Guardiamoci negli occhi Quando vogliamo Comunicare tra di noi Guardiamoci negli occhi Parlavo prima con il fratello Di Bello Accanto a me Mentre ascoltavamo il coro E osservavo l'espressione Dove sono i coristi? Dei ragazzi che cantavano E alcuni erano così concentrati E altri erano così partecipativi Gioiosi Di quello che hanno ricevuto Che hanno potuto mettere insieme A livello di grandi coristi Magari non professionisti Ma che hanno saputo trasmettere Due messaggi Con questi due cori E il modo con cui noi parliamo E cantiamo E guardiamo gli altri È importante Perché se quello che noi diciamo È qualcosa in cui crediamo Verrà trasmesso dagli occhi E questi occhi Erano gli occhi della trasparenza Di chi amava il Signore Al punto Che Davide È stato indicato Da Dio Come colui Secondo Il cuore Di Dio Lo sapevate Che Dio ha un cuore E nel cuore di Dio C'è posto per tutti Ma per Davide C'era un occhio particolare Un'attenzione particolare Che era riservata Al carattere Che era In quella giovane Che veniva Da lì a breve Chiamato Come può essere Chiamato tu A un compito importante Non tutti diventerete re Probabilmente Neanche pastori Neanche dottori Neanche evangelisti Neanche profeti O apostoli Ma forse voi Che non ambite a tutto questo Sarete chiamati da Dio Proprio per servirlo In questi ministeri E altri di voi Che già sono impegnati Nell'attività Nelle chiese Al servizio Dei figli di Dio E parlo un istante Ai monitori Della scuola domenicale Le monitrici Ai responsabili Dei giovani Quando penso A questi fratelli e sorelle Nella nostra comunità Mentre noi siamo Al piano di sopra Per goderci Il culto a Dio Loro sono Al piano di sotto Quelle che chiamiamo Affettuosamente Le catacombe E trascorrono Più tempo lì giù Che al piano di sopra Perché stanno servendo Noi famiglie Servendo i nostri figli Dio benedica I monitori E le monitrici Delle scuole domenicali I responsabili giovanili Coloro che evangelizzano Coloro che dedicano Del tempo Al Signore E che trasmettono Quello che da Dio Hanno ricevuto Per crearsi Un'eredità Nei cieli E per vivere Anche sulla terra In maniera Meravigliosa C'è un ultimo aspetto Questo era un musicista Sapeva suonare Un uomo forte Valoroso Un guerriero Che parlava bene Era anche di bell'aspetto Mi devo fermare un attimo Una volta Proprio in un campeggio Fessi una domanda La voglio ripetere qui a voi Quanti di voi Vi sentite bellissimi Per fuori alzate la mano Solamente io Anche i pastori Non vi sentite bellissimi Ma perché volete Maltrattarvi Ma già Ci maltrattano Gli altri Ma voi pensate Che ci sia qualcuno Più bello di voi Siete Delle realtà uniche Al mondo Siete stati Fatti Non con lo stampino E c'è qualcuno Che è riuscito male Ognuno di noi È una realtà A se stante I canoni di bellezza Di oggi Per favore Mettiamolo in attimo Da parte E ognuno guardi A se stesso Perché sembra Che se no Se non sei bello E non sei biondo Non puoi servire al Signore Non è questo Il messaggio di oggi Grazie a Dio Siete tutti bellissimi Posso dire anche Così alle sorelle Anche se non c'è mia moglie Ma è tutto registrato Tutto trasparente Siete bellissime Sorelle Non buttatevi giù E se cercate marito Cercatelo nei campeggi Chiudo la parentesi Questo giovane Che ha visto tutto Quello che abbiamo detto In Davide Al di sopra Di ogni cosa Dice questo Io Ho visto Che il Signore È Con lui Alleluia Grazie per questo Alleluia Nel verso 13 Samuele aveva unto Davide In mezzo In mezzo Ai suoi fratelli Fratelli Questa unzione Di Dio Questa scelta Che Dio compie Questa Realtà Dello spirito Che lui mette Su di noi Qualcuno si ferma A osservare L'olio Dell'unzione Ma quell'olio Era il segno Evidente Esteriore Che nell'uomo Davide Era stata Ammessa Una realtà Che prima Non c'era Era comunque Quello ragazzo Di cui avete sentito E che leggiamo Nelle scritture Ma prima in lui Non c'era La presenza Dello spirito Di Dio Così potente Da quel momento In poi Sarà un ragazzo Diverso ancora E la potenza Di Dio Quando occorrerà Sarà in lui Non siamo ancora Giunti a Pentecoste Il signore ancora Non riempirà Di spirito santo In maniera Completa E direi Perpetua Se non siamo noi Chiaramente a fare Qualcosa di diverso Dello spirito Che ci viene donato In quel tempo Lo spirito veniva dato Per uno scopo preciso E poi tornava Il signore Poi tornava nuovamente Per un'altra occasione Su Davide Questo spirito Era visibile E il signore Era con lui Fratelli e sorelle Se abbiamo ricevuto Lo spirito di Dio Perché abbiamo creduto In lui E siamo stati Rigenerati E questa è La prima opera Dello spirito santo In noi Questa in realtà Si deve vedere Gloria a Dio Per i musicisti Gloria a Dio Per coloro Che servono Ma gloria a Dio Per quelli che Sanno parlare E via di seguito Ma se non c'è Il signore con noi E non si vede Non andremo Da nessuna parte E che il Davide È stato scelto Perché tra le altre Realtà Era stato investito Dallo spirito Di Dio Fratelli e sorelle Che si possa dire Di ognuno Di noi Di voi Quando qualcuno Vi incontra Credo che nei prossimi giorni Riapriranno le scuole Anche qui Quando tornerete A scuola Per alcuni Forse qualcuno È già rientrato Al lavoro Già le vacanze Sono un ricordo Lontano Si dice Che quando tornate Che quando torniamo Qualcuno possa notare Che c'è qualcosa In voi Che prima Non c'era Oppure voi Quanti di voi Siete stati I turni Nel campeggio Al Pogiale Quest'anno Per fuori Alzate la mano Grazie Avete ancora Conservato Quello che avete ricevuto In quei giorni Oppure avete già Perso tutto Sapete che questo È il dramma Ed è la paura Più grande Dei campisti Giovani Quello di arrivare Sul monte Della trasfigurazione Per dieci giorni E poi di crollare Giù nella valle Padana Quando si torna a casa E di perdere tutto Voglio al Signore Che non abbiate perso nulla E che sia Il pane della vita Per voi E che gli altri Osservandovi Anche quando voi Non mi renderete conto Possono vedere Qualcosa in voi Che prima non c'era O comunque Che loro non hanno E poter notare Che in voi Che con voi C'è Il Signore Alleluia Qual è L'accompagnatore Che vorresti avere Nella tua vita Colui che accompagna Ognuno di noi È il creatore Del cielo E della terra Ricordo una volta Il fratello Mauro Estevanato Pastore qui davanti Mio amico Che raccontò Di una sua esperienza Te la ricordi Quella dell'aeroplano In un suo viaggio In aereo Mentre sei al di sopra Delle nuvole E anche se sotto C'è il diluvio Universale Quando sei sopra C'è il sole E nel guardare Queste meraviglie Nel guardare le montagne Nel guardare Quello che è il creato Lui disse al suo compagno Di seggiolino In aereo Sai chi è che ha creato Tutto questo? Mio papà Mio papà Il nostro padre celeste In Cristo Gesù L'Emmanuele Lì Dio con noi E' colui che ci accompagna E' colui che Segue passo passo Il nostro cammino Se affidiamo la nostra vita Alle sue mani naturalmente E' colui che conduce Pastore dei pastori Sommo pastore Della Chiesa E' colui che conduce Il suo popolo Conduce il popolo Vuol dire Prendere per mano Fratelli ricordatevi Quando noi leggiamo la scrittura Dobbiamo capire cosa dice la scrittura Non fa tutto il Signore Per noi Non è lui che porta Compimento E fa tutto L'opera della grazia Ma è scritto che Conduce Non porta Portare Prendere questa Questa Bibbia Da un posto all'altro Ma condurre vuol dire Prendere una persona Per mano E la mano Gliela devi dare Al Signore Lui la prenderà E ti conduce E conduce L'opera che è iniziata Quella buona opera Che ha cominciata La condurrà A compimento Fino Al giorno Di Cristo Gesù Nostro Signore Questo Padre Celeste In Cristo E' colui che vive Dentro di noi Che vive in noi Che cammina Insieme a noi E che fa vedere All'esterno La sua presenza Tramite coloro Che hanno gli occhi Per intendere Davide Da quel momento in poi Ha fatto Delle cose straordinarie Ma quello che interessa Questo messaggio E' che Davide Da quel momento in poi E' riuscito a parlare Al cuore Di Saul Sentite Cosa dice il verso 23 Dopo questa scelta Dopo questa segnalazione Del giovane Davide fu chiamato Alla corte Di Saul Cominciò a lavorare Con la sua arpa Ed è scritto Che quando il cattivo spirito Permesso da Dio Veniva su Saul Davide prendeva l'arpa E si metteva a suonare E Saul Si calmava Stava meglio E il cattivo spirito Andava Via Da lui Ragazzi Fratelli Sorelle Il Signore ancora oggi E' alla ricerca Di persone Che abbiano Dei talenti E che siano disposti A mettere Questi talenti A disposizione Di lui Ci sono molte arpe Abbandonate in qualche armadio Nascosti in qualche aula Scolastica Silenziosi Oppure nelle corsie degli ospedali Infermieri Insegnanti Professori Direttori di azienda Imprenditori Tutti i musicisti Che hanno messo Da parte Il proprio strumento Tiriamolo fuori Usiamolo Per il Signore Perché Attorno a noi Ci sono Quelli che Dio Metterà Sul Sentiero Della salvezza Che saranno Turbati Nello spirito E abbiamo bisogno A loro Di parlare Al cuore Se ci manca qualcosa Per poterlo fare Chiediamolo a Dio Che è grande Nel donare Nel colmare Le nostre lacune Ma dal canto nostro Per quanto È il nostro potere Di fare Vogliamo dire al Signore Io Voglio essere Uno strumento Nelle Tue mani Non mi basta Solleticare L'esteriore Io voglio parlare Al cuore Come Tu Signore Quando l'hai fatto con me Hai parlato Al mio cuore E non hai cambiato Solo la mia intelligenza O il mio corpo Ma hai iniziato A lavorare Nel mio cuore E quando l'interno Di me stesso È stato toccato Dallo spirito di Dio Ecco che l'esteriore Ne verrà condizionato E mostrerà I frutti Di questo cambiamento Signore Che ognuno Dei presenti Ognuno di coloro Che ascolterà Questo messaggio Possa essere Di quelli Che dica Signore Io voglio essere Di quelli Di cui si dirà Il Signore È con Lui Alziamoci in piedi Fratelli Sorelle Alleluia 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 E portarle Ad uso Per noi Il Signore Ancora oggi Dice Vuoi uscire Da mezzo agli altri Che hanno abbandonato L'idea di essere Degli strumenti Utili Nelle mie mani Vuoi essere Condotto Alla mia presenza Per poter Essere Da me Usato E ancora oggi Il Signore Chiama Il Signore Che conosce Ognuno di noi Sa già Che non tutti Risponderanno Di sì Ma prima Di fare un appello Mi voglio riferire A quelli che Sono ancora Titubanti La timidenza È una brutta realtà Ma non è invincibile Dica il debole Sono forte Se sei Di carattere timido Il carattere di Cristo È forte E vogliamo chiedere Insieme Che ogni Realtà Che ti possa impedire Di essere Usato da Dio Venga messa da parte E tu possa essere Invece Annoverato Tra quelli Di cui Dio Si può usare Venga messa da parte Grazie a tutti.